Buongiorno buona gente, questo cordiale saluto vi giunge nuovamente dagli studi di ETV per la nostra, soprattutto vostra, rassegna stampa con questo 24 di aprile che si preannuncia un giorno di ponte, un giorno di festa, un giorno però un po' così come ci conferma l'amica Anna Bartoccetti da Matelica, stamattina nuvole nere minacciose e vento, prima o poi arriveranno le belle giornate, quasi si chiede con noi e per noi Silvana Galeazzi e allora io comincerei proprio dal meteo. Avevo lasciato in sospeso le previsioni per la prossima settimana, perché? Perché in realtà settimana prossima mezzo casino pioverà soprattutto direi sulla festa de San Ceriago, la festa del capoluogo regionale. Ieri a Porto San Giorgio, grande festa per il patrono, abbiamo le immagini, però questa settimana che ci apprestiamo a vivere insieme, in realtà escluso oggi, escluso domani, dovrebbe essere una bella settimana con sensazioni piacevoli fino al 25 grandine, quindi niente. Poi però l'anticiclone africano che porterà temperature fino a quasi 30 gradi, non sarà così per oggi e domani, come dicevamo, sono previste le piogge, lo avevamo anticipato ampiamente la scorsa settimana, rispetto a chi da Matelica per esempio ci segnala di Cieli Bigi, vado subito a verificare. Eh sì, effettivamente, questa per esempio è una panoramica sopra i Cieli di Iesi, tutta un programma, altrettanto amici amici sopra Macerata, Nuvolone, Fantoziano, così è sopra Pesaro, altrettanto sopra Urbino. Ma insomma, era previsto e quindi ce ne faremo una ragione. Nelle notizie marchigiane per questa giornata di piccolo o medio ponte, che vedono, è tvmarche.it, chiaramente in primo piano, il nostro sito, l'Ancona, che deraglia l'area canatese, che sogna addirittura i play-off, vis ok per i play-out, ferma Napari. Questo è il bouquet di notizie legate allo sport del fine settimana, un fine settimana che purtroppo è stato segnato da una marea di incidenti stradali. L'ultimo in ordine di tempo, questo, scontro con un'altra auto, poi la vettura si ribalta, ferito, un 68enne, è successo nella zona di Macerata, a Sforzacosta, all'uscita della superstrada Macerata-Ovest. Pochi minuti prima, e anche questo avevamo raccontato attraverso una serie di immagini, pochi minuti prima, questa volta sull'Ascoli Mare, tra due caselli, voglio essere più preciso, tra due uscite, Ascoli Est e Ascoli Centro, vedete l'immagine, un'auto che aveva perso il controllo. In generale, come bilancio, tra venerdì, sabato e domenica, tre centauri morti, un'auto contro un bus e una bimba che è stata testimone di tutto, la mamma purtroppo ferita e poi appunto lo schianto sull'Ascoli Mare. Davvero un weekend bruttissimo sotto il punto di vista degli incidenti, ma perché? Perché è stato il primo vero weekend di bel tempo in senso assoluto, quindi riprendiamo la macchina, non siamo poi così abituati, tendiamo a trovare tra l'altro più gente rispetto a qualche settimana fa e anche più traffico può purtroppo incidere. Noi abbiamo su questo anche dei contributi, perché ieri c'è stata un'iniziativa proprio legata alla mobilità sostenibile. Buongiorno da Milano, ci scrive Sauro da Montecchio. Buongiorno carissimo, poco fa abbiamo raccontato la storia Milano-Torino di una famiglia che ha acquistato una casa in zona Porto Recanati e si è ritrovata con dentro della gente che faceva festini. Ecco alla una delle notizie di cronaca di oggi, feste nella casa occupata, appartamento estivo nel mirino degli abusivi. Succede a Porto Recanati, brutta sorpresa a Scossicci per una famiglia di Torino. Penso che la violazione di domicilio, il sapere che la propria casa sia stata occupata, sfruttata, rovinata, davvero una delle cose peggiori che possano capitare. Buongiorno, ci chiedono anche notizie sull'aumento degli stipendi. A maggio, dicevamo poc'anzi, dovrebbe arrivare un aumento tra i 20 e i 25 euro per redditi sotto i 25 mila. Ciao Maurizio, domani che a San Savino ci invita una volta viene Uccio De Santis. Grazie, grazie per questa segnalazione. Franco, 16 gradi da macerata, vai al mare caro amico, occhio però che ci sono delle nuvole all'orizzonte. Massimo, buongiorno. Daniele, buongiorno. Giornali, abbiamo dato un'occhiatina poco fa a una delle notizie che trovate sul Carlino Edizione Regionale. Come ogni lunedì, un bouquet di titoli che trovano subito soddisfazione e quindi diamo notizie a tutte le marche e a tutti i marchigiani e le marchigiane, soprattutto le marchigiane. Macerata, per esempio, assistenza agli anziani. Abbiamo detto più volte in questi giorni che le case di riposo manchino di posti disponibili. Allora, la mappa in provincia, SOS, liste d'attesa, mappare le strutture per essere più recettivi nel confronto delle attese che le famiglie hanno per poter sistemare la propria nonna e il proprio nonno. Incidente in moto sulla superstrada, 44enne gravissimo. È uno di quegli incidenti segnalati sul nostro sito. Si parla in particolare di un uomo di 44 anni sabato sera. L'incidente, tra l'altro, è stato visto anche da un nostro collega Andrea Fiano. Passava di lì dopo l'incidente. Si cerca di capire. Il fratello rivolge un appello. Chi ha visto qualcosa segnali. Vigilantes dalla zona di Macerata al Pesarese. Vigilantes a un euro. Lo strano porta a porta. Due individui, amiche e amici di Pesaro, in divisa, segnalati alle forze dell'ordine, bussano alle porte e propongono fantomatici contratti da firmare per la sicurezza a un euro al giorno. Quindi 365 euro. La polizia però è già intervenuta e li ha già individuati. Da Pesaro ad Ancona per questo episodio di cronaca che ha colpito tanto anche perché è successo in una strada molto trafficata, via Flaminia, attorno all'ora di pranzo, 13.30, e quindi inevitabilmente un sacco di gente l'ha vista e l'ha riportata anche sui social. Auto si schianta sulla ferrovia. Paura e treni bloccati. Un 57enne piomba sulla recinzione e la abbatte. Danni e detriti pure sui binari. Per fortuna in quel momento non passava un treno. Linea in tilt per circa un'ora. Fatemi fare un ringraziamento e un complimento alle persone che vedete, i vigili del fuoco, perché il pompiere paura non ne ha. Vi porto proprio a Porto San Giorgio. Dicevamo dal primo al 4 di maggio la festa di San Quiriaco per il patrono. Ieri c'è stata invece la bella festa di Porto San Giorgio per il proprio patrono. E allora avevo promesso qualche foto. Ecco alla una folla omaggia. Quale sarà il patrono di Porto San Giorgio? Salve San Dio. Chiaramente è San Giorgio. Saluto lo zio Giorgio, zio Giorgio Marini. La processione è uno spettacolo. Una folla immensa. Come la pandemia ci aveva fatto dimenticare, ha partecipato alla processione accompagnando con canti e preghiere il busto contenente le reliquie di San Giorgio. Il corteo ha preso il via dalla chiesa di San Giorgio e ha ripreso un vecchio percorso di ben 4 chilometri. È stata una gioia anche e soprattutto perché si è recuperato un percorso e un modo di vivere la festa di San Giorgio che la pandemia aveva fortemente limitato. A proposito di San Giorgio, saluto lo zio Giorgio Marini che mi ha proposto qualche giorno fa di salutare Elso, Duca e la moglie Giuliana. Elso, Giuliana, grazie, buongiorno. Duca, la famiglia Duca perché tra l'altro sono molto molto gentili, forniscono delle verdure speciali alla nostra famiglia e poi le mie creature se le mangiano come fossero coniglietti. Devo dire, il minestrone con le verdure di Elso e Giuliana è una specialità. Un abbraccio grande, grande. Una folla omaggio a San Giorgio dunque così abbiamo salutato un po' tutti. Vado, vado di nuovo ai giornali perché avevo lasciato in sospeso le edizioni del Corriere, in particolare del Pesarese, sul tema del Biolab. Molti messaggi. Riparto da qui per leggere tutte le prime pagine. Come sempre, la protesta si sposta dalla Baia a Piazza Stefanini. Parliamo del Maxi Raduno che si verificherà il primo maggio per manifestare contro la possibilità che arrivi a Torraccia un Biolab, cioè un Biolaboratorio dove si possono fare esperimenti importanti anche legati a materiali pericolosi. Dovrebbe essere tutto chiaramente attento, tutto verificato, condizioni di sicurezza che dovrebbero essere mantenute, però sappiamo bene la preoccupazione che sorge in questi casi dopo il Covid, dopo la vicenda del laboratorio di Wuhan, dal quale sarebbe fuoriuscito addirittura il Covid. Comunque, il presidio del primo maggio si farà contro il Biolaboratorio alla Torraccia, ma la manifestazione cambia sede. Non si farà più al campo di Marte a Baia Flaminia, ma in Piazza Stefanini, nell'area che gravita attorno al Multiplex Giometti e alla Vitrifrigo Arena. Questo perché gli stessi organizzatori un po' preoccupati per il grande successo mediatico avuto da questa iniziativa per il primo maggio, hanno detto a tante associazioni, guardate, restate a casa, preferiamo che non veniate, che non partecipiate, il rischio è quello che si potrebbero verificare degli scontri. Se dovesse sorgere questo Biolaboratorio nel Pesarese, chiaramente si tratterebbe di una notizia che riguarderebbe poi tutte le marche, perché anzi tutto il nostro Paese, evidentemente. Ex Tribunale, restiamo un attimo a Pesaro, nuovo progetto a quattro anni dal blocco del cantiere. Il Comune avvia il piano del 2015 per i lavori, per l'ex Tribunale. Il taglio centrale è dedicato allo sport. Abbiamo una lube che sta battagliando per ottenere a colpi di rimonte clamorose, va detto, dopo Verona ne ha fatte le spese anche Milano. Abbiamo un basket con la VL che vince e sa questa vittoria di playoff. La Carpegna Prosciutto, io tifo per la Carpegna Prosciutto, sono nato per il nome, da Goloso di Prosciutto, quale sono? Manda K.O. Trieste 94 a 83. Complimenti ragazzi. Salvamento in mare, meno postazioni e maggiori però compensi. Succede a Fano. Poi in termini di ambiente, se da un lato a San Benedetto del Tronto abbiamo la discussione aperta sulla questione dell'area marina protetta, sì, no, fateci sapere. Ad Urbino invece c'è a far discutere la discarica di riceci. Anche qui proteste, vediamo se riusciamo, sì, discarica di riceci. L'Italia è già avviato. Stop a un gigante fuori dal tempo. La provincia pubblica il progetto Carabs ricorda che movimenterà 200.000 tonnellate annue. Il progetto della discarica di riceci a Ponte Armellina nel comune di Petriano è stato pubblicato dalla provincia di Pesaro Urbino e sono emerse, come capita spesso, proteste. Da Pesaro ad Ancona, in primo piano con il Corriere, l'assalto al centro, i turisti arrivano, ma negozi chiusi. Bastano i mercatini per riempire la città, ma c'è la serrata dei commercianti. Fermi il 15 aprile e il primo di maggio. Intanto fioriscono le aperture nel segno del food. Questo succede in centro. Panuozzi, Poké, French Tacos, quante new entry. Si punta al food. In taglio centrale, simpaticamente alla faccia di chi dice ma non hai vinto neanche quest'anno il a Ciriachino. Se vede che non me lo so meritato, ma va a chi ben più di me lo merita, devo dire, perché Fiore Rossi, Anconetane d'Oro. Il Ciriachino alla patronessa e alla scienziata. Direi che la scelta è andata molto molto bene dal mio modesto punto di vista. Sfida? Questa è incredibile. A tutta velocità. Due auto giù dal ponte, tre feriti, uno è grave. eravamo poco fa su questa notizia. Siamo a Chiaravalle. La vado a recuperare anche perché davvero merita attenzione e soprattutto stigmatizzazione. Sfida a tutto gas. Due auto giù dal ponte. Ma come si fa? Volo shock e tre feriti. Uno è gravissimo. Pauroso incidente a Chiaravalle. Secondo il Corriere, si tratta di giovani colleghi di una ditta che avrebbero inscenato una sorta di gara. La corsa a tutto gas. Forse una sfida a folle velocità. Poi lo schianto contro il guardrail e il volo shock, dice il Corriere, giù dal ponte. Per una decina di metri. Un'auto è andata a finire tra i rovi, l'altra in un canale che fortunatamente in questo periodo è quasi a secco perché altrimenti saremmo qui a parlare di conseguenze ben più gravi per questo incidente che si è verificato a Chiaravalle. Dalla zona di Ancona, dopo essere passato per Pesaro e Macerata, vi porto ad Ascoli e San Benetto, sempre con il Corriere. Precari, solo due mesi in più. C'era un problema e c'è ancora. Problema di personale in tutta la sanità marchigiana. Ad Ascoli, precari, lavoratori precari che stavano per avere il contratto scaduto, si attendeva una proroga, la proroga è arrivata. Però non è proprio una buona notizia perché solo due mesi in più, dice anche il giornale, sindacati molto delusi perché questi precari servono. È arrivata la proroga ma la scadenza dei contratti solo a due mesi coinciderà con il periodo delle ferie estive. Quindi a quel punto, finiti questi due mesi di proroga per la sanità ascolana, cadrà il contratto di questi precari e in più ci sarà meno personale perché legittimamente la gente va in ferie, gli operatori e le operatrici vanno in ferie. Eccolo qui, la conferma proroga di soli due mesi a 230 operatori precari. In realtà vi volevo portare la notizia di Taglio Centrale, la sfoglio, verso la pagina interna a queste due immagini. Piazza del Popolo come una discoteca in 3.000 a ballare fino a notte fonda. Bellissima serata, anni 80-90, i residenti però si lamentano per il fracasso. Venerdì lo avevamo anticipato nel novero delle iniziative da vivere per questo weekend. A proposito, oggi e domani molti chiedono sul tema meteo ma c'è poca trippa per gatti. Ricordo a Civitanova mi segnalano arriva Uccio De Santis, quindi vai Uccio. Fioravanti e Vallesi, bellissima serata, anni 80-90, 89 discoteca, il format itinerante con la migliore musica degli anni 80-90 con una piazza del popolo così gremita di folla. La foto è stata addirittura postata dal sindaco di Ascoli, Fioravanti, segno della soddisfazione dell'amministrazione comunale per questa iniziativa. C'eravate? Fateci sapere. Siete residenti in zona? Un po' arrabbiatini? Fateci altrettanto sapere. Grotta Mare, spiaggia ripulita dai volontari nella zona del porto e anche qui per completare il quadro della zona di Ascoli mi ci soffermo un attimo perché? Perché in questi giorni abbiamo ahimè parlato tanto delle zone Marina di Montemarciano, Senigallia dove la pulizia delle spiagge è mancata. A Grotta Mare ci hanno pensato le volontari ci arriverò passando però a proposito di iniziative per San Benedetto. San Benedetto frecce tricolori in arrivo, stand a 600 euro. Alcuni ambulanti non ce la fanno, devono rinunciare, cioè per poter partecipare alla Kermes, essere lì con la propria bancarella tra il 2 e il 4 di giugno gli stalli costano di affitto temporaneo 600 euro. Non ce la facciamo. La Confcommercio critica, il Comune risponde, sono previste 300.000 persone, quindi 600 euro di affitto te li dovresti ripagare nel giro di poco tempo. Stalli a peso d'oro in occasione dell'esibizione delle frecce tricolori. A circa un mese dall'evento, che riguarderà ben tre giorni, dal 2 al 4 giugno emerge il costo elevato per l'installazione dei gazebo. Le frecce tricolori che tra l'altro mi hanno segnalato, ma lo confermo perché le ho viste anch'io, ieri hanno fatto un po' di esercitazioni, hanno lavorato, hanno fatto un po' di prove in vista di questo appuntamento a San Benedetto. A proposito di San Benedetto, ancora migliaia di atleti invadono la riviera, bello vedere il lungomare affollato. Per tavoletti dell'International è così davvero cominciata la stagione. Al Palasport volano le farfalle della ritmica. Io però avevo iniziato a sfogliare questo giornale per arrivare a questa notizia. Siamo a questa bella manifestazione. A Grottamare gli ambientalisti ripuliscono la spiaggia e sperano che diventi un'area per cani. Stop alla plastica e ai rifiuti inquinanti i volontari si sono dati appuntamento nella zona del porto. Il presente e l'eventuale futuro della spiaggia al confine tra Grottamare e San Benedetto. Prima di portarvi verso il giornale per Macerata e provincia, ripasso un attimino da voi con i vostri messaggi. Impariamo non solo a entrare, quello lo sanno fare tutti. Impariamo a rimanere. E' questo ciò che conta nel rapporto con le persone. Condivido. Impariamo a rimanere. Questo che conta di più. Buona giornata da Lucia. A volte è più facile cambiare il partner che cambiare un pochino noi stessi. Entrare nell'anima di una persona è un'arte. Rimanerci è un capolavoro. Bellissimo questo saluto. Spesso dico questa frase. Quando le storie finiscono e al giorno d'oggi è sempre più presente questa strada che viene percorsa dai più. Perché tante coppie, tante famiglie, tanti amori finiscono. A volte perché finiscono. Perché a volte va così e entrambi non ci possono fare nulla. A volte però uno dei due decide di lasciare l'altro, barra l'altra, perché è più facile, come dicevo e come dico spesso, cambiare l'amore che cambiare un po' noi stessi perché possa restare l'amore. Dice, ma come no? Non si deve cambiare per amore un pochino? Sì. L'amore è un trovarsi, è un venersi incontro. Buongiorno buongiorno di Casine di Ostra, da Serenella, 16 gradi. Serenella ci dà un assist per parlare un po' anche di meteo. Anche se c'è poco da dire. Sarà una bel fine settimana. Per oggi e per domani invece un po' così. Quel po' così ce lo confermano le immagini, le webcam che possiamo mostrarvi. Questa per esempio è Urbino. Sopra i cieli di Iesi tutto un programma altrettanto verso la costa dell'Anconetano, ad Ascola, ancora pare sia la fase di Nanna in corso, a Fermo, idem con patate. In piazza a Fermo ci si prepara, vedo stand enogastronomici, panche e panchette all'orizzonte. Cercherò di capire quale sia l'origine di queste panche, di questi tavoli che vengano piazzati. Se ci seguite dal Fermano volete darci già notizie, siamo contenti di subito dare una spiegazione. Andiamo a Macerata e provincia, dai. Turisti, ponte da record. Poco fa eravamo a Dancona, turisti, locali chiusi. Qui invece ponte da record, ristoranti già sold out per il 25 di aprile. I gestori dei locali dicono bene, la stagione è iniziata alla grande e di solito si tende un pochettino a dire sì, beh però è. Qui invece soddisfazione. Tornano anche i visitatori stranieri in testa a tedeschi, olandesi e inglesi. A Macerata, musei aperti. La Recanatese, in taglio centrale, asfaltala ancora con un netto inequivocabile 4-0. Addirittura adesso la Recanatese, da neopromossa, vede i play-off. Andiamo a Macerata centro, dove c'è stata dell'attenzione. Un agente ferito da un gambiano. Cingoli, ucciso da un malore, il presidente del Vittoria Strada. Abbiamo poco fa, dall'edizione online, salutato appunto questo dirigente, piglia poco, stroncato da un malore, è il presidente del Vittoria Strada. Notizia per certi aspetti simile. Dalla zona di Ancona, Buonavento, Marco, Senigallia sotto shock per la morte di Mazzanti, re della Tartana e pioniere del mare d'inverno. Aveva 61 anni. Torniamo sulla situazione incidenti stradali. Il motociclista di 44 anni, involontario, protagonista di un incidente che si è verificato sabato sera lungo la statale, la superstrada è in condizioni disperate. Lo schianto, una dinamica da chiarire, l'appello del fratello, ora chi ha visto ci aiuti. È in condizioni disperate, Marco Staffolani. È davvero senza soluzione di continuità la situazione degli incidenti stradali. Solo nell'ultimo weekend, tra venerdì, sabato e domenica, ricorda il nostro sito, tre centauri morti, un'auto contro un bus coinvolta anche una bambina. Ieri sulla Scolimare, all'alba, l'incidente con questa vettura e poi, verso l'ora di pranzo, scontro con un'altra auto, eccolo lì, una vettura poi si ribalta, ha ferito un 68enne. Ma qual è il bilancio? Da gennaio 19 morti nelle Marche. Incidenti no, è violenza stradale, la battaglia di gioia Bucarelli con la fondazione Scarponi. Sono passati sei anni dalla morte di Michele. Queste sono le statistiche. 6266 i feriti, tra cui 584 ad Ancona, che guida questa spiacevole classifica, segue Pesaro, poi San Benedetto, poi Fano, poi Senigallia, poi Civitanova Marche. Questi dati per ricordarci che quando ci mettiamo al volante, quando accendiamo una macchina è come se accendessimo un'arma. Buongiorno da Milano, ci scrive Sauro di Montecchio. Grazie caro Sauro, che tempo fa a Milano, facci sapere che volentieri lo ricordiamo. Fermo e il Fermano per dare tutte le notizie. Ponti, debutto col pienone, assalto a Porto San Giorgio per il concerto in centro dei Tiro Mancino, di cui avevamo parlato, e per gli eventi del Patrono. Abbiamo mostrato anche, se non erro, sì, eccola là, questa bella processione. La processione è uno spettacolo. Turismo culturale, fermo, sempre gettonata, funziona il traino della mostra curata da Sgarbi. In taglio centrale, passione latino, anzi latinorum, sfida fra liceali, successo per il Certamen a Ortezzano. Ortezzano, credo si pronunci così. Ancora notizie locali, controlli e posti di blocco, occhio, maxi blitz per la sicurezza, nuove operazioni dell'arma per i giorni di festa, spaccio e rapina, scattano tre arresti sulla costa. A proposito della costa, abbiamo parlato del fermano, allarme droga a Lido Trearchi, salvato dall'overdose di Eroina. Pensate, un passante l'ha visto riverso a terra, privo di sensi, ed ha deciso di aiutarlo. Istituzione del Parco Marino, proteste, polemiche a San Benedetto, legambiente contro albergatori e operatori turistici. Per loro arriveranno solo benefici, secondo legambiente, seguito dell'istituzione del Parco Marino. E poi, allarme bomba, un altro ordigno in via Capuana, questa volta a Civitanova. Molte di queste notizie le abbiamo raccontate dal Pesarese, stavolta siamo a Civitanova Marche. La segnalazione è arrivata da un residente, ancora allarme bomba in città. Mi devo fermare, giusto per ricordarvi che oggi e domani così così, ma poi, ma poi c'è un ma poi, perché fino a sabato, poi il tempo sarà bello. Piogge temporali su alcune regioni, grandine fino al 25, poi l'anticiclone africano e sul primo maggio invece un po' così. State con noi a tra pochissimo. Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore o forse solo diverso.